Ciao Maria Ciao Minsu, ti presento la mia famiglia Questo è mio padre, questa è mia madre Tanto piacere, sono il signor Rossi, benvenuto a Roma Molto lieta, abbiamo sentito parlare molto di te da Maria Anch'io sono proprio contento di conoscervi, siete una bellissima famiglia Ciao Maria Ciao Minsu, ti presento la mia famiglia Questo è mio padre, questa è mia madre Tanto piacere, sono il signor Rossi, benvenuto a Roma Molto lieta, abbiamo sentito parlare molto di te da Maria Anche io sono proprio contento di conoscervi, siete una bellissima famiglia Lezione 12 Ti presento la mia famiglia Ciao Maria Ciao Minsu, ti presento la mia famiglia Questo è mio padre, questa è mia madre Tanto piacere, sono il signor Rossi, benvenuto a Roma Molto lieta, abbiamo sentito parlare molto di te da Maria Anch'io sono proprio contento di conoscervi, siete una bellissima famiglia Ciao Maria Ciao Minsu, ti presento la mia famiglia Questo è mio padre, questo è mio padre, questa è mia madre Tanto piacere, sono il signor Rossi, benvenuto a Roma Molto lieta, abbiamo sentito parlare molto di te da Maria Anche io sono proprio contento di conoscervi, siete una bellissima famiglia Anche io sono proprio contento di conoscervi